Organizzata dalla SD Bike Torrese che ha scelto l'associazione italiana Sclerosi Multipla e la sua fondazione per raccogliere fondi, la pedalata del Messaggio 2024, mercoledì pomeriggio, ha fatto tappa in piazza Vittorio Veneto a Matera, dove è stato allestito anche il laboratorio di AISM, Senti come mi sento, un laboratorio esperienziale che permette a tutti di cercare di comprendere come si sente una persona con Sclerosi Multipla. La pedalata del Messaggio è un'iniziativa solidale che ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della ricerca e promuovere la ricerca stessa. Nel 2024 la pedalata del Messaggio fa tappa a Matera in piazza Vittorio Veneto e sostiene AISM, l'associazione italiana Sclerosi Multipla, che da più di 50 anni è al fianco delle persone con SM e da oltre 25 anni, dal 1998, tramite la sua fondazione FISM, finanzia la ricerca scientifica sul tema della Sclerosi Multipla. In piazza i volontari AISM della sezione di Matera portano il laboratorio esperienziale Senti come mi sento, che anche in questo caso ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, permettendo a chi vuole, in libertà, di provare sulla propria pelle per qualche minuto alcuni sintomi più comuni della Sclerosi Multipla e poter, per un piccolo istante della propria vita, mettersi nei panni di una persona con SM.